Le condanne, tutte con pena sospesa, risalgono allo scorso febbraio. 13 imputati e le società di riferimento vennero ritenuti responsabili di quanto accaduto nel novembre di nove anni fa alla radice pontile della fabbrica Eni. L'operaio trentenne, Francesco Romano, morì dopo essere stato travolto da un tubo da otto tonnellate, era accatastato nell'area di cantiere dove si lavorava il programma di sostituzione della linea P2. Per l'operaio, allora dipendente della Cosmi Sud, non ci fu nulla da fare. Le difese di tutti gli imputati hanno impugnato le sentenze di condanna e la vicenda verrà valutata dai giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta. Il procedimento di secondo grado è stato fissato per il prossimo dicembre. L'attività di indagine fu lunga e anche sul piano istruttorio nel dibattimento di primo grado ci sono volute approfondite analisi tecniche che hanno permesso al giudice Miriam D'Amore di arrivare alla pronuncia. In base a quanto stabilito nelle motivazioni ci furono inosservanze e irregolarità nella gestione del cantiere. Sarebbero state decisive per determinare l'incidente mortale. In primo grado la condanna ad un anno e otto mesi di detenzione, sempre con pena sospesa è stata pronunciata nei confronti di Bernardo Casa, Fabrizio Zanerolli, Nicola Carrera, Marco Morelli, Alberto Bertini, Patrizio Agostini, Sandro Iengo, Rocco Oficci e Serafino Tuccio. Un anno e sei mesi di reclusione invece per Mario Giandomenico, Angelo Pennisi e Vincenzo Cocchiara. Infine un anno e quattro mesi a Salvatore Marotta. Tutti i difensori hanno impugnato le uniche assoluzioni sono state decise per le posizioni di Guerino Valenti, Fabrizio Lami e Ignazio Vassallo. Sono stati condannati invece i vertici di Cosmi Sud, azienda per la quale lavorava l'operaio Eni e delle aziende che a vario titolo avrebbero dovuto occuparsi dei controlli e dei protocolli di sicurezza. I legali degli imputati nel corso del giudizio di primo grado avvalendosi di supporti tecnici hanno contestato le accuse escludendo violazioni della normativa in materia di sicurezza. Tra le contestazioni c'è l'omicidio colposo, il PM Luigi Lovalvo ha sostenuto l'accusa nel dibattimento di primo grado e anche nelle conclusioni ha ribadito che la morte dell'operaio fu la conseguenza finale di una catena di inefficienze. Il tubo che travolse Romano si staccò da una catasta che era già da tempo presente nell'area dei lavori. Sono stati passati al setaccio tutti i piani di sicurezza e accusa e difese si sono confrontati su tutti questi aspetti. Imputati e società in primo grado sono stati condannati inoltre a risarcire i danni alla famiglia dell'operaio, ovvero i genitori e la moglie. Le parti civili fin dall'inizio dell'indagine sono state rappresentate dagli avvocati Salvo Macri, Emanuele Maganucco e Giosef Donegani che in più occasioni hanno indicato quelle che ritengono pesanti anomalie nella gestione del cantiere finito poi al centro dell'indagine coordinata dalla procura e condotta dai militari della Capitaneria di Porto. Romano lasciò anche due piccole figlie. La società in relazione alle responsabilità amministrative è stata condannata al pagamento di 300 quote da 500 euro, decisione che oltre a Cosmisud ha toccato Eni, Pec SRL e SG Certec. Con l'appello avanzato dalle difese i giudici nisseni di secondo grado dovranno ritornare sul caso. I legali degli imputati cercheranno di ottenere decisioni favorevoli ribaltando quelle emesse dal Tribunale di Gela. I difensori dei manager Eni hanno ribadito che la posizione aziendale dei loro assistiti non poteva estendersi agli aspetti tecnici dei cantieri non rientranti nelle loro funzioni.